vegeta contro dodoria in questo episodio vegeta affronta dodoria dodoria però quando incontra vegeta è sicuro di poterlo battere anche se le cose non vanno come previsto si chiede come ha fatto vegeta a raggiungere un livello di combattimento superiore al suo visto che era sempre stato inferiore e si scopre che un seian una volta che ha rischiato la vita in seguito ad un combattimento diventa ancora più forte di prima dodoria chiede di risparmiare la vita a vegeta rivelandogli che è stato freezer a distruggere il pianeta vegeta e che invece non è stato distrutto in seguito alla collisione con un meteorite come invece vegeta credeva ma vegeta decide comunque di una vera pietà verso dodoria e lo uccide grazie a tutti